salve ragazzi io sono stefan caos e oggi sono qui con wolf e jacopo mi perfetto ragazzi oggi sono su batfield by company 2 per una partita in multiplayer sulla mappa ce lo dice wolf passo bianco perfetto ho già trovato il divan come potete vedere se fino avesse capito il pannone dei russi ragazzi oggi siamo tutti quanti incazzati neri perché come al solito quando registriamo in osotto non si capisce perché cazzo il cazzo di computer di wolf continua a guarda che non è colpa del mio computer appunto è colpa della microsoft protestiamo domani ci ritroverete avanti alla microsoft a dire abbasso la microsoft così non mi sembra giusto no cavoli ci siamo massati tra noi bello e siamo finiti di merda eh? cavolo oh abbiamo proprio bravo scleriamo proprio forza ragazzi dobbiamo dai muoversi e adesso poi sto parlando da solo anche se no non mi potrebbero sentire adesso scopriamo che sentono ma ancora basta è la seconda volta oggi che succede un piccolo problema con il mio naso allora oggi allora ragazzi guardate oh mio dio perché c'è un braccio che spunto dalla parete sei pagato no? chi è? stefan caos e io siamo molto ah no ma onziti oggi? stiamo facendo ma cazzo mordi? ma cosa? no no allora oggi allora ragazzi ehm vi volevo dire prima che Jacopi mi cominciasse a torturare i colori sui maledette dita non pensate mai allora ehm dopo questo gameplay e forse qualche altro gameplay di GTA 4 caricheremo anche un video su Black Mesa che è un remake di Half Life 1 ma comunque su quel video parlerò e vi spiegherò tutto ma se ne vediamo perché questo qua sarebbe l'apertura per alcune idee del capitolo Battlefield visto che poi inizieremo a giocare anche su Battlefield 4 la cara lecchia beta e inoltre volevamo anche fare qualche volevamo fare anche un video su come siamo messi quando dobbiamo produrre un video su ps3 perché su pc abbiamo fraps quindi non ci facciamo quindi ci divertiamo da dio tanto a un'ondata infinita di fuori onda non sappiamo ancora se lo mettiamo anche in cima a questo video si soprattutto nella camera non lo so e va beh non fa niente anche se non lo carichiamo sappiate che a breve faremo più i bimini e le soldi va da dietro se lo ha attaccato è ma dov'era va si dice al culo se lo ha attaccato al culo sdro culo ma mi becco tutti i campi a noi ma chi è questo è l'H46 no no l'Hk ok ehi mi confondo va bene noi qua tutti abbiamo vai con le mie alcoli di diosia cosa prendevo oh cacchio si chiama oh ragazzi anche noi purtroppo abbiamo dei nomi e qualcuno ogni tanto si lascia scappare si lascia scappare ma probabilmente la censureremo questa parte ovviamente non si può dire non si possono dire no via la cazzo così in giro ma anche no e no ma anche no e no ma anche no ma secondo voi sono positivo o negativo? mmmm negativo o positivo più negativo impendiamo come collegato alla batteria proprio le battute di Jacopo Mini impressionate no 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 ma qua sta passando sopra non si sa dove provengo perché quale cazzo non esistono provengono dal buco dell'inferno nel tuo anche cubo dell'inferno vietnam si esatto noi quando ci siamo pensati con vietnam cos'è qualcosa di confuso? 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 quello che usi per guidare i doni? ragazzi fuori le tavole allo sotto c'è un tp un po' strano qua e beh ma se sei ma puro può anche essere pazzo ma se va ridere i suoi spettatori c'è qualcuno no un altro un altro un altro un altro si si accrociati così eh eh vabbè bisognerà entrare nell'arena no 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 bisognerà entrare in una partita e dire col microfono c'è qualcuno se c'è qualcuno in agguato dico io proprio tutti escono fuori dicono no 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 ma naturalmente con l'italiano escono fuori perché si può anche uscire lenti ehm 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 dopo aver visto dopo aver visto jacopo dopo aver visto jacopo vi bandare è potuto morire in pace certo venite per vedermi alla nostra sede di trono speciale la vicenda che si trova in via di ehm 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 subate quando si deve segnata si metteva di più su cosa anche spazio nel fare ovviamente abbiamo bello e vai la squadra ha perso cioè volevo dire e vai meglio di fare un'altra partita si intanto il tempo c'è nessuno sono cinque minuti tra massimo comunque ragazze è solo parte in qualche parlare un po tanto adesso non devo giocare su questo gioco che sono mai morti voi non la conosceranno è quello poi ma per intenderci qui guardate neto comunque per intenderci è quello che poi ma di parte c3 ci siamo con un passo bianco ma diamine non capirò mai tanto su sto capo di gioco noi oggi devi fare tutte e due comunque come avete visto sta durando l'assalto che è perché sia da c'è interna molto che alla colla gli sms se io abilito il suono qui non riusciamo più ma infatti lo corretto detto togliete la fatta di vibrazione che ci penso a me le anni di batte di best friend company 2 e mi sembra un po non so fatte come si fossero fatte col poco non so come dirlo però se non ne sono meno analistiche problema perché questo quali spento amate tirati come campagna o molto più come dire passa c'era molto c'è questo passato quello che si scontrava con bene con modello a 2 e secondo ma proprio ma proprio giusto ieri quando non sarà venuta a casa mia per fare un video di black mesa andavo cacchierando sul fatto che praticamente c'è non si sono conoscete team fa 32 praticamente a posta di indossare i miei vendi che non sono mi sono in buona rendo stanno le le tutte rosse blu è tanto per dire guardate che siamo qui staratici comunque adesso trovando lo stand con nel maio se c'è stato poterlo e potente ma no a posto stello a cerco di quel portello di studio si è proprio di studio ma d'altronde come imbatt f3 cioè tu fai così contro la parete la casa la casa polverizzata è come se adesso non si vede nei fotografi ma non si inocchia a 3.300 per spaccare i muri è per quello che si rompono sempre guarda volevo attraversarlo io che poi sarebbe il cellulare che sto fancato io in realtà te lo diciamo io non ho il 1800 ma c'è un costo qua con l'emmi portò no ragazzi adesso io mi so comunque di cellulare meson preso un bel htc quesce 8 aspetta che poi cerchiamo su internet perché le assi del medioevo ecco scopri che è di pietra sì esatto certo ci telefonava la primone pronto? com'è la situazione a water non ho tranquilli c'è la cavia e non è stati poi ha perso ecco comunque questo questo cavolo di drone voglio vedere come è il drone è già attivato ah cavolo perché hanno ammazzato quello che mi stava comandando quindi adesso per un po' non si potrà usare ah ecco guarda al camper che camperoni che camperoni ma no ma perchè? questa qua mi sembra un po' la mappa dei camperoni non so perchè ma si ma qua più o meno non tanto qualche camper lo tovi ah giusto io si lo so ragazzi non sono in politico ma chi se ne frega della base eh si come ha detto Jacopo Mì infatti la pida è questa male deve essere messo bene per essere in positiva comunque ragazzi adesso io ho detto un passato al medico che come vedete ha un grandissimo mi taglione che personalmente mi sta sul sedere il medico perchè scusate allora se in una guerra ti sparano un proiettile in testa e prendete un defibrillatore ti dovrà scusate ma ti 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 scusate ma comunque mi stavo dicendo ce l'avevo dietro avevo un tizio dietro con la F2D che personalmente a me mi sta sulle palle il medico perchè scusate allora uno gli va sulla gli sparano in testa con il cecchino ma questo qua muore giustamente uno arriva con il defibrillatore e lo rimette in sesto ma non so dagli arrivi ai proiettili no niente io lo rimetto in sesto con il defibrillatore ma cioè comunque come dico sempre è un gioco cioè secondo me non ci sarà mai un videogioco che sarà uguale a real ma è meglio perché uguale a realità significa che gli sparano di colpo voi siete morti no 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 cecchino eh che cecchino guardate il campeone c'è un'accomo mia che stava facendo segnalci nella telecamera anche se non c'è una telecamera appunto no c'è un'accomo se la telecamera lo sopronomiamo così perchè c'è gli occhi ok con dettagli termici qua ho un pisto che mi sta stappando con la calibro 50 a qualcuno che sa soltanto lui prendi 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 adesso momento di silenzio si sente il vento stiamo facendo segnalci per una maggiore no we'll proviamo a sentire la PS3 che fa girare il disco io dico che mi anche col microfono a fianco si sente neanche se qualcuno aveva sentito qualcosa che lo scrivo nei commenti e se qualcuno ride le battute di stefan kaos e ce lo scrivo nei commenti anche quello che ho fatto unico perfetto ci mancava solo questo se qualcuno ride alle battute di stefan kaos mi dispiace a qualche problema ecco mi dispiace infatti non c'è stefan kaos che si gira tutte le batte non sono un asso non sono un asso alle battute no questo l'ho messo ha fatto la missione mamma che si fa anche perchè se qualcuno ma anche se volete ridere di più le sue battute potete trovarlo noi lavoriamo con i bippo oggi ecco tanto ma perca cosa mi sembra tipo fate di mirror sage che fanno tipo i voli da tre metri e non si fa niente più spastico il chiunque mi surzo un signoreto si adatti a breve un video anche sulla demo di sto gioco qua volevamo fare sul gioco di abieto ma forse forse abbiamo sbagliato a scaricare ma cosa succede in una casa esce c'è un carromato in fiamme non sono riusciti a craccarlo cioè quindi giochiamo no era da tostoni non abbiamo craccato ragazzi abbiamo preso la tostoni aspetta avvicinati a qualcosa che puoi spezzare praticamente tutto no aspetta avvicinati a qualcosa che puoi rompere con il coltello ah ecco guardate un po come si aprono le fiamme eh scusate cioè io non so io adesso questo qua c'è rompi tutto col coltello eh col coltello svizzero FUSWARCIA svizzero? no novi grande toccolato italiano ma cosa? adesso ho fatto una pubblicità nella novi vabbè ecco adesso devo mettere bippo un altro bippo a proposito si qualcuno di voi trova il bippo in internet che ci rispondiamo tutti i peccati e c'errono nei commenti mettetelo nei commenti se no lo facciamo con la bocca ve lo diciamo come lo avete fatto con tutte le altre canzoni no facciamo in triplo un triplo bippo ecco ecco quello di Jacopo Mia perfetto cioè lo possiamo subito stare allora Jacopo Mia ha sempre parlato così ecco scusate ragazzi noi c'è una voce freccata voi andate se è contata cioè non è tanto la quale amico allora è una voce dispernata sono così intelligente che non riesco a capire chi è che ha dico che non è completamente intelligente che i libri esplodono quando non cercare di studiare è così che funziona comunque quanto tempo è che stiamo in istranno 13 50 sarei continuiamo comunque ancora coltava vecchia m8 ma che è l'unico che non mi ho fatto vedere è tanto uguale quando finisce questa partita adesso croce molti fa tanto tanto ci manca il spacco la faccia al pc no 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 si strascia e cresce da solo quindi è proprio solo 15 è come un altro voto che si fa ancora io non ero una battuta ma guarda che ricoglioni tra un crack la crack no ma non è stata questa di gioco e l'altro ma quanto mamma mia gratuito per paura potete vedere questa pistolina qua è un percorso di fuggire d'assalto fa un po troppo comunque vogliamo andiamo a conquistare notare il respiro di quello che sa ma non è un cagnolino ma avete notato che allora è un'altra cosa da vedere secondo me vabbè long shot è che avete notato che quelli di calo di utenti spostiamo da battlefield hanno potissimo scatto c'è fa un po scatto di più io che dovrebbero essere addestrati tutto no esatto ma cosa sta analizzando il microfono ora che lui si è spinto ecco ma lui ha sempre paura che si è spinto perché no perché no con l'ultima volta che qualcuno ha dimenticato di accedere ma no ma no e beh ma lo faccio io ma abbiamo sparato io alla finestra l'ho superato no vabbè sì ma come ha fatto è che ne so è lui un fantasma che ti devo dire è un fantasma il fantasma fuori giro adesso lo spavano di nevo domani no ma guardate sono in trato davanti a mano ma non ti disse sono in trato davanti a un fissio tranquilla adesso prendiamo le pilloline per la pazia adesso no no scusa no le pilloline blu che interessano le supposte le diciamo da nessuno ma sono giunto fuori che supposte la ragazza chi va ecco non è che stefan caos non ho ancora capito come si intende se il fantasma non è capito non avete capito no guardate ragazzi è ancora meglio tamperare ma non è vero ma ti farò vera ma cosa fa quello con la colonna si vuole sapere da dove spuntano ma cosa sta dicendo momento di pazia per questo qua è un po nemico ah no amico ma perché non muoiono guarda no perché non è morto cioè non so sono immortali sono immortali sti qua ragazzi se volete fare una cosa divertente con gli amici in battlefield 3 fate così allora quando siete in ma non vogliono non vogliono coiuta scusate prima il consiglio di stefan caos ci vuole l'introduzione al consiglio ragazzi siamo qui con il nostro esperto di sto gioco qua ecco 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 questo gioco non è proprio questo gioco ma finito ecco con il nostro super esperto Stefan Caos che oggi ci sparerà un consiglio ok ok abbiamo capito che quarta ok se andate a divertirmi con il mio ho cambiato arma adesso sto usando la N94 Ancala N94 qua c'è il mio come vedete abbastanza per paura di scuola scuola tipo perché pare di scuola la terramora in attiva quando lo rispondi ma è perfetto ma a darvi a guarda se adesso non sappiamo quando metteremo perché aveva un piccolo problema abbiamo fatto solo che mentre forse no comunque ragazze sto faremo una serie su gta che ha detto da un po di chi da come chiamarla al fianco non abbiamo già letto scusa mi hai fatto montare un video in cui diciamo la teologia di gta 4 ma no combiniamo che fa segno che vuole no chiede che bisogna staccare no perché sono già 18 minuti 18 minuti quindi praticamente siamo più giocatori 20 26 e praticamente se facciamo un video di 20 minuti cioè tipo un'ora per caricarlo quindi ma no vabbè ma adesso ci ha avuto la connessione di nuovo che abbiamo qua oh vabbè siamo siamo in italia si noi uh guardate sito qua casa mia in Italia però la tua connessione è molto meglio che qua eh doppia con la L con la L con la L con il wifi distanti chilometri no ma poi c'è anche il problema della tele con delle delle cose quindi ma in realtà siamo connetto il cineternet diretta con il cavo della playstation e dobbiamo portare in tavola playstation eh si povera playstation gli manca il cavo ma è buono 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 ma il cavo metteremo una bella canzone triste con la playstation che piace ecco ci sto bollando mamma ti hanno fregato la playstation vabbè tanto te ne compri un'altra così adesso si diceva più se 4 eh vabbè anche un po' allora bad boy bill bad boy bill no come cazzo no tu qua è olandese 5500 5500 ma non si parla in tedesco, ma non si parla in tedesco 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 ma io direi che il 505 si parla in tedesco no, ma qua dove? vabbè, torna un po' vorano, vorano qua non si pronuncia graffi il 505, no? come anche io non lo fai neanche te? come la parola che ti dicevo sempre wolf cartoffel cartoffel, ecco, secondo me si produce cartoffel qua c'è un veicolo quando qualcuno vuol dire 500 cartoffel eh, non lo so come si dice io sono andato in Germania e ho imparato soltanto cartoffel ho capito ecco, perfetto qua sotto anno, ragazzi ovviamente wolf si ispira è un'altra dente di fredarci la mano allora, adesso wolf non per farle il cattivo però mi sa che Alida non gliene ha fatto un bel cazzo non muore, non muore ragazzi siamo 21 e 33 minuti perfetto e io ho fatto tutto va bene e io ho fatto aspettate ragazzi, facciamo ancora facciamo proprio venire il gerniere e basta perchè poi rinassi bene di chiudere facciamo una morte su il gerniere e dopo stacchiamo ma no dopo ci mettiamo troppo a caricare poi facciamo medico ecco proprio mediii medico perfetto ecco avete visto il lanciarassi comunque non vi ho ancora fatto vedere il veicolo anche ci penso è vero non gli ha fatto vedere i veicoli vabbè vi faccio vedere questo qua che sarebbe no scappa scappa devo far fallire il piano di wolf vabbè vabbè ecco accelerato adesso il tuo bo ci ha messo la nitro dentro al il scappamento ma cazzo è la nitro ecco non l'abbiamo ancora guidato non possiamo saperlo vabbè 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 ma calma vabbè no vabbè 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 ma oppure si è mangiato qualche peperoncino prima di iniziare il gioco quindi si è dato un po' di carica come ti fanno così ragazzi questo posto qua è fatto da dietro ecco si sto qua e basta lo vi accamperare bello tranquillo mezzo all'erba è vero all'erba erba non fumate da ragazzi allora ragazzi non si fuma non si beve whisky è super alcolici e non si dicono parolacce cazzo mi è caduta la sigaretta nel whisky eh vabbè ragazzi è verità una battuta ma ovviamente vi faremo anche vedere durante il video faremo una piccola cosa che faremo vedere una screenshot del sito dopo abbiamo preso la battuta che stefan caos appena detto no in verità ma stiamo vedendo tanto adesso scopriamo si l'ha detto l'ha detto di Akukumi ora ragazzi adesso direi quando schiatto quando schiatta l'ultima volta finisce intanto schiatterò subito l'ultima volta non c'è adesso abbiamo perso la posizione no l'opponezza ciao bella ragazzi adesso come pubblici ti salutiamo vabbè anche al commutato su ecco perfetto eeeh cosa dobbiamo dirvi ciao da stefan caos da wolf e di Akukumi ciao ragazzi il migliore ciao